racconti di paura una serata tranquilla di sabrina elena aveva invitato giulia e filippo a casa sua i ragazzini andarono a casa di elena dopo cena i genitori dovevano andare via perché avevano una riunione importante i ragazzi si misero a guardare la tv e all'improvviso sentirono un urlo giulia disse il rumore viene dalla soffitta filippo puoi andare a vedere filippo sale in soffitta e le ragazze aspettarono mezz'ora ma filippo non tornò elena si preoccupò e andò a vedere di nascosto in soffitta però non c'era nessuno torna da giulia e le raccontò tutto ad un certo punto sentirono un altro urlo che veniva dalla cantina videro filippo tutto insanguinato e lo accompagnarono in salotto ma arrivò una donna armata e uccise giulia mentre filippo e elena riuscirono a scappare